Musica Ci troviamo a Prada Mano perché c'è la Festa dell'Unità, 69esima edizione, un appuntamento simbolo nella vita del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia. Accanto a me c'è Gabriele Pitassi, organizzatore dell'evento, nonché ex sindaco di Prada Mano. Una festa, dicevamo, quella dell'Unità che prosegue lungo una tradizione decennale, ultra decennale. Beh, questo è vero, vi ringrazio di essere qui questa sera a Prada Mano perché per noi questo è un appuntamento importante, tant'è che anche l'altra sera ho annunciato a tutti che ci stiamo preparando per il grande evento, per il settantesimo, per la settantesima edizione. Io in questo momento devo solo ringraziare tutti i volontari che ci stanno dando una mano perché mettere in piedi una festa come questa, perché ormai nei dintorni di Udine del Festa dell'Unità non si fanno più, era quella di Tavagnacco sicuramente la più numerosa, ma adesso siamo diventati noi qui piccolo comune, la festa più grande praticamente ormai anche della provincia di Udine. Siamo alla 69esima edizione e abbiamo voluto dedicare proprio a questa edizione due momenti importanti per la politica perché come ben sapete il Partito Democratico in questo momento non è che ha navighi in acque sicure e pertanto anche questa sera avremo la presenza della nostra Presidente Deborah Serachiane per affrontare proprio i problemi del Partito Democratico. Ricordo a tutti anche l'appuntamento più importante, quello che sarà qui giovedì sera per quanto riguarda la riforma costituzionale, quindi quelli che voteranno sì e quelli che voteranno no. Abbiamo degli ospiti importanti, quindi vado ad annunciarli, Sergio Cecotti già sindaco di Udine, Mauro Travanut consigliere regionale per il no e per il sì ci sarà Leopoldo Cohen un costituzionalista e Paolo Coppola che è onorevole anche nostro concittadino. Poi andremo a approfondire anche ulteriormente il programma di questa festa dell'unità, ma cosa significa oggi organizzare e vivere una festa di partito, un partito, quello democratico come diceva lei, appunto alle prese con diverse anima ma che comunque rappresenta ancora il partito di maggioranza relativo a livello nazionale e regionale. Questo è vero, noi in questo momento a Prada Mano con grosse difficoltà, devo dire, riusciamo a portare avanti questa idea del partito democratico perché noi nel partito democratico ci crediamo. È ovvio che quando è nato il partito democratico gli auspici erano altri e praticamente c'è stata questa mutazione genetica nel tempo che noi, almeno per quanto mi riguarda, cercheremo di correggere nei prossimi mesi o nei prossimi anni. E sinceramente i due schiaffi che abbiamo presi alle elezioni regionali dovevano arrivare prima, io è da tempo che dico questo, per correggere quello che stiamo facendo perché abbiamo fatto sicuramente errori ma abbiamo tutto il tempo per recuperare perché ritengo che la cosa più importante siano le elezioni regionali che ci steranno praticamente nella primavera del 2018 e quindi abbiamo il tempo per recuperare e recuperare bene perché alcune cose sono state fatte bene e alcune cose vanno sicuramente migliorate. Lei, lo dicevamo in apertura, è l'ex sindaco di Prada Mano, comunque amministratore locale, forse è questa la questione principale assieme a quella della sanità che sta creando discussioni e polemiche in Friuli Venezia e Giulia. Come se ne uscirà secondo lei? Ma secondo me, qui io avevo fatto le mie proposte, io sono sempre stato dell'idea che andava sicuramente approvata una modifica degli enti locali, questa non era la mia riforma, l'ho detto fin dall'inizio, da quando sono uscite anche le prime bozze per quanto riguarda la riforma. Perché se io e lei dobbiamo contrarre un matrimonio, dobbiamo amarci, perché altrimenti è un matrimonio forzato e questi matrimoni forzati secondo me non porteranno il bene alla nostra collettività, ai nostri concittadini. Pertanto forse è da lì che dobbiamo ripartire, cioè mettere insieme le persone. Forse l'errore più grosso è stato quello di aver abbandonato la legge 1, bisognava dare continuità a quella legge lì, modificare quella legge lì, ma la base di partenza era quella. Invece adesso abbiamo stravolto tutto e io spero nell'esperienza dei sindaci che facciano in modo di andare d'accordo, perché se non vanno d'accordo tra di loro praticamente le uti sarà un fallimento sicuramente garantito. Torniamo al programma Pitassi, dicevamo domani sera ci sarà la festa dei pensionati, un altro momento molto sentito di questo evento e poi si andrà avanti sino al 16 agosto. Sì, questo è vero, noi abbiamo sempre dedicato momenti importanti sia ai bambini, agli anziani, alle persone di medialità e domani sera sarà una serata dedicata esclusivamente ai pensionati, dove andremo a toccare anche i problemi dei pensionati, perché i problemi dei pensionati non sono di poco conto in questo momento, perché anche le pensioni non è che siano abbondanti in questi periodi e quindi domani sera affronteremo anche questo argomento nei nostri dibattiti. Per i ragazzi ovviamente ci sono state delle gare sportive, alcune ci saranno, alcune dimostrazioni sono previste sabato e anche domenica con esibizione dello judo e domenica ci sarà un torneo di beach volley. Grazie a Gabriele Pitassi e noi ci spostiamo ad ascoltare altri ospiti. Ci siamo trasferiti sempre qui al parco di Pradamano all'interno della festa dell'unità insieme a Franco Azzano che è un altro degli storici collaboratori di questo evento. Partiamo dalla sua esperienza, dalla sua storia, dal vissuto di questo evento, siamo quasi alla soglia dei 70 anni, ne avete vissute parecchie insomma. Abbiamo vissute sicuramente parecchie, tempi diciamo, io faccio parte dell'organizzazione da 40 anni, 40 anni fa avevamo difficoltà di un genere diciamo. Però adesso diciamo andando avanti con gli anni, diciamo negli ultimi dieci anni le difficoltà si trovano per quanto riguarda, essendo io un pensionato da una ventina d'anni circa, difficoltà che ai miei tempi diciamo tutti più o meno lavoravano. Adesso invece purtroppo negli ultimi anni sono molti giovani, molti giovani, parlo dai giovani che hanno finito le scuole, diciamo che hanno trovato lavoro, ma molti, siano il 30-40% di giovani purtroppo scappano anche all'estero. Purtroppo la situazione è così, sia laureati che noi insomma, no? E trovano lavoro all'estero. Quello è una cosa molto molto preoccupante. Io parlo della nostra regione, del nostro piccolo qui, no? Ecco, le dirò che la situazione non è per niente erosea, no? Perché anche persone che non sono più giovani, insomma, a parte che adesso l'età è avanzata, diciamo, no? Però sono persone di 50-55 anni che sono rimasti senza lavoro e non trovano lavoro. Sono finite, diciamo, i tempi delle grandi casse integrazioni perché non ci sono più fondi e poi anche ci sono i problemi, insomma, che abbastanza grossi perché tanta gente è sposata, hanno problemi per gli studi, non hanno lavoro, le case. Sono giovani, diciamo, di 40-45 anni che hanno anche difficoltà a formare una famiglia oggigiorno purtroppo, no? Il motivo? Il motivo è, dicono, sì, noi facciamo famiglia però, come voi anche sapete sicuramente, no? Oggigiorno la nascita, siamo qua a zero, quasi a zero, se non sono gli extracomunitari o gli stranieri, da una parte è bene che ci siano anche loro. Chiaramente, dico la verità, l'interessante è che vengono qua con contratto di lavoro, con un posto di lavoro sicuro, un'abitazione sicura perché, le dirò, la mia esperienza, nel 65 io sono stato in Svizzera, qui c'era carenza di lavoro, ma sono stato in Svizzera, no? Perché quando sono partito dall'Italia, sono partito con un contratto di lavoro e avevo anche il posto di lavoro e anche sapevo dove io andavo a dormire, dove mi capisse. Quella volta si poteva anche pensare, facciamo una famiglia, anche se eravamo giovani. Adesso è molto più difficile, abbiamo toccato tanti argomenti e proprio una delle caratteristiche delle feste dell'unità storicamente è quella della discussione, del confronto. In questa edizione che cosa vi aspettate possa emergere? Quali linee, insomma, da dare, da consegnare alla Presidente della Regione Serracchiani che proprio qui sarà stasera? Sì, ci vorrebbero le linee loro, sì, anche la Presidente Serracchiani, no? Chiaramente un paio di anni fa aveva promesso più lavoro, però purtroppo i posti di lavoro sono sempre meno, sono sempre meno, no? Bisognerebbe, sì, bisognerebbe aprire i finanziamenti, i finanziamenti alle fabbriche, diciamo, no? Vengono dati col contagoccia, dicono che i soldi non ci sono purtroppo, no? Però si sa, è una cosa elementare, se non c'è lavoro, il lavoro tira un po' tutto, diciamo, no? Chiaramente, no? Se non lavorano i muratori, non lavorano i falegnami, non lavorano gli idraulici, è tutta una catena, chiaramente. E allora mi capisse com'è. La situazione è sempre più, è sempre peggiore, non migliore. Le promesse che sono state fatte dalla nostra Presidente della Regione, all'inizio, perché abbiamo dato fiducia a gente giovane, diciamo, giustamente, no? Però adesso, o perché lei ha due piedi in una staffa, mi capisse, allora non si può agire a Roma e agire anche qui in Regione. O che si fa una cosa, o che si va l'altra, perché sono tanti i problemi anche per la Presidente della Regione, sono molti, no? E allora la situazione non è assolutamente rosea, ecco, perché io sento anche i figli dei pensionati, io sono anche un Vice Presidente dello SPI regionale, di... Il sindacato della CGL. Il sindacato della CGL, no? Che tengo a cuore, perché io, tengo a cuore, perché io sento gli anziani, che oggi sono anziani, sì, dai 75 anni, 75, 80 anni, no? Che hanno i figli, hanno i nipoti studiati, che hanno la laura, che scappano all'essero. Ho anch'io, anch'io, una mia, la sorella di mia nuora, una laureata, ha lavorato fino all'altro giorno. Qui in Italia poi la situazione è drastica, è drastica, ha dovuto fuggire all'estero, ha dovuto fuggire in Inghilterra, sia lei con la famiglia. Allora, sono cose un momentino un po' da preoccuparsi, da affrontare, e lì la Presidente della Regione deve riuscire a capire, a comprendere. Lei dice sì, sì, però a un certo punto le cose si fanno molto, molto lentamente. Grazie, ringraziamo Franco Azzano, la testimonianza di un militante, di un sostenitore del Partito Democratico, qui alla festa dell'unità di Prada Mano. Noi proseguiamo a raccontarla, assieme a altri ospiti. Non poteva non mancare, Deborah Serracchiani, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, alla festa dell'unità di Prada Mano. Lo raccontavamo prima, un appuntamento simbolo nella vita politica del Partito in Friuli Venezia Giulia. Tante le questioni aperte che lei stasera analizzerà e dibatterà, assieme ai militanti e ai sostenitori del Partito. Beh, come tutte le feste dell'unità, quella di Prada Mano, che insomma è una di quelle più antiche, anche alla quale sono più affezionata, non manco ormai da diversi anni e credo che sia l'occasione davvero per confrontarci con i nostri militanti, sulle questioni che riguardano la Regione, su quello che riguarda, se volete, con uno sguardo un po' più largo, l'Italia, il nostro Paese, ma anche l'Europa. Insomma, in tante feste dell'unità in questo periodo mi chiedono di parlare di Brexit, mi chiedono di spiegare quello che sta succedendo in Europa, anche ai nostri confini e a quello che sta succedendo nei rapporti con la Turchia, perché nonostante sembrino temi così lontani, la nostra gente ha voglia di sapere, di conoscere, di capire, ovviamente anche le dinamiche locali, sia chiaro. Partendo allora da questo sguardo internazionale, sulla nostra Regione le ripercussioni che si potrebbero avere sul governo italiano naturalmente e le linee di indirizzo che seguirà anche il partito a livello nazionale? Beh, intanto quello che accade in Turchia ci tocca, seppure indirettamente, perché è un mercato al quale noi abbiamo guardato sempre con grande attenzione. Se pensate che il porto di Trieste è collegato direttamente con l'autostrada del mare proprio alla Turchia, è chiaro che guardiamo con preoccupazione e con interesse quello che sta accadendo. Dal momento non abbiamo riscontri negativi, però è chiaro che vogliamo anche avere chiarezza e tutte le informazioni. Dall'altra c'è un accordo sull'immigrazione che abbiamo fatto proprio come Unione Europea, bisogna chiedersi se ha ancora senso visto quello che sta accadendo in Turchia. E poi è chiaro che la nostra Regione è una Regione geopoliticamente importante, importante nelle relazioni internazionali, importante nel sistema delle infrastrutture del Nord-Est, ma è anche altrettanto importante la nostra Regione quando fa delle scelte come quelle che stiamo facendo, ad esempio di avere rapporti importanti e forti con la Baviera oppure con l'Iran, che è un paese che sembra così lontano ma che in realtà sta avendo un'importanza in quell'area proprio di stabilizzazione dei rapporti internazionali. Poi c'è oggettivamente un paese che sta cambiando, pensiamo all'importanza del referendum che faremo in autunno. A proposito di referendum è arrivato proprio nei giorni scorsi l'Ok, il Via Libera dalla Corte. Beh, intanto la sentenza della Corte di Cassazione è un altro passo in avanti importante. Dopo quello della raccolta delle firme ce l'abbiamo fatta, ne abbiamo consegnate 600.000, credo che sia un segnale altrettanto positivo. Dall'altra c'è un paese che deve cambiare, che vuole cambiare. Per renderlo più efficiente, più competitivo, meno costoso c'è bisogno di dire di sì al referendum. Io personalmente sarò molto impegnata sulla riforma costituzionale anche perché ha effetti davvero molto positivi sulla nostra autonomia e quindi va non solo difesa ma va davvero spiegata molto bene ai nostri cittadini. È la prima volta che il Friuli Venezia Giulia e le Regioni a Statuto Speciale hanno un riconoscimento forte della loro autonomia e cioè la possibilità di applicare la riforma solo se ci sarà l'intesa. Il che significa che se non troviamo un accordo la riforma non si applicherà, ma se troveremo l'accordo stabiliremo noi quali competenze, con quali soldi, come esercitarle. Quindi rafforziamo e non aspettiamo più i giudici, rafforziamo la nostra specialità e la nostra autonomia di fronte all'Italia. Parlando con i militanti, con i sostenitori del Partito Democratico, tra le richieste più pressanti che vengono fatte anche alla Regione sono le tematiche legate al lavoro, all'immigrazione, alla sicurezza. Come cercherete di dare risposte nei prossimi mesi in questa seconda metà del 2016? Intanto noi abbiamo per la prima volta un tasso di disoccupazione che sta calando. eravamo una Regione fortunata. Nel 2007 avevamo il 3,5% di tasso di disoccupazione, nel 2014 è balzato al 9%. Ovviamente abbiamo lavorato per riconquistare spazi, per riconquistare posti di lavoro, per essere attrattivi negli investimenti. Portare le imprese qui è molto importante, spiegando loro che qui possiamo fargli pagare meno tasse, possiamo fare una burocrazia più leggera, possiamo dare delle garanzie lavorando sulle infrastrutture. Questo lavoro si permette di dire ad esempio oggi che il tasso di disoccupazione è del 7%, quindi vuol dire che abbiamo effettivamente recuperato qualche migliaio di posti di lavoro. Non basta perché abbiamo dei settori, penso all'edilizia, che è stato fortemente colpito dalla crisi, però i bandi che abbiamo fatto nuovi, quelli sul riuso, quelli sull'edilizia scolastica, quelli che si apriranno ad esempio sugli impianti sportivi, oltre 110 impianti sportivi con lavori per circa 40.000 euro ciascuno, significa far ripartire l'economia locale. Ricordo poi l'importanza della terza corsia, con una clausola unica e devo dire molto qualificante del lavoro che abbiamo fatto, che prevede che le due grandi imprese che si sono aggiudicate, il più grande dei lotti, uno dei più grandi, cioè Rizzani Decker, che comunque ha sede in Friuli Venezia Giulia, e la Pizzarotti debbano dare lavoro alle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Quindi credo che stiamo riaprendo delle prospettive e che si vede anche risultato, visto che abbiamo comunque dei dati economici positivi. Naturalmente sono tante le famiglie ancora in difficoltà e siamo la prima regione che ha messo in campo la misura attiva di sostegno al reddito. Però ecco, vorremmo davvero lavorare ad esempio sulla disoccupazione giovanile, si sta abbassando ma non basta, da noi funziona la garanzia giovani, però dobbiamo ancora lavorare tanto. Queste feste, Presidente Serracchiani, è anche un momento di confronto interno alla partita. Allora, cosa vede nel futuro del Partito Democratico Deborah Serracchiani e Deborah Serracchiani nel futuro del partito? Beh, intanto vedo un Partito Democratico molto presente, dato veramente, fatto un grande ringraziamento ai volontari, perché senza di loro non saremmo qui e non avremo le feste dell'unità dove parlare di politica e dove confrontarci. Il Partito Democratico ha una posizione molto chiara, ad esempio sul sì e sul referendum, l'abbiamo votato in Parlamento, l'abbiamo votato negli organismi di partito, e quindi è chiaro che questa è la partita che ci giocheremo più convintamente. È un partito che però continua a discutere, il che è assolutamente legittimo, e credo che sia assolutamente legittimo che ci facciamo carico anche delle opinioni critiche. Dopodiché credo però che questo Paese abbia bisogno di un partito unito e coeso, anche perché l'alternativa non è la sinistra, l'alternativa è il populismo, l'alternativa è il Movimento 5 Stelle, di Grillo, oppure la Liga di Salvini, oppure un centrodestra che ancora non è chiaro quello che vuole fare da grande. Per cui non penso che di fronte a quello che sta accadendo nel mondo, gli attentati terroristici, la Brexit, lo sfaldamento dell'Unione Europea, il sistema bancario in difficoltà, insomma tutto quello che dobbiamo affrontare meritano un Paese con un governo forte, credibile, che sia in grado di dare le risposte che per troppo tempo sono mancate e che soprattutto faccia quelle riforme che per troppo tempo sono mancate. Per cui il Partito Democratico deve essere schierato dalla parte giusta, insomma quella della responsabilità. Grazie alla Presidente Deborah Seracchiani e buona festa democratica. Grazie mille, grazie a voi. I volti storici del Partito Democratico e le nuove leve, accanto a me qui alla Festa dell'Unità di Prada Mano, siamo in compagnia di Anna Maria Menosso, già Vicepresidente del Consiglio regionale, attualmente tesoriere del Partito e collaboratrice di questa grande festa. Cosa vi aspettate innanzitutto da questa edizione? Innanzitutto lo scopo principale della Festa dell'Unità è quello di fare veramente comunità, cioè lo scopo è quello di riuscire a coinvolgere il più possibile le persone in un momento, al di là della festa, in un momento di confronto politico. E quello che ci aspettiamo è, anche dall'incontro ai politici che abbiamo organizzato, di vedere una presenza attiva del Partito, che dia un colpo e che ci dica ci siamo, ci sono e siamo pronti per sempre nuove battaglie ed essere sempre pronti ad amministrare, come lo stiamo facendo attualmente, il Comune di Prada Mano, la Regione e anche la Nazione. Sentendo anche le voci dei vari militanti, dei vari sostenitori, ci sono diverse richieste alla politica regionale e nazionale per sbloccare questa crisi che non vede la famosa luce in fondo al tunnel ancora. Sicuramente sì, questo è un grosso problema, soprattutto il problema del lavoro. Si sente molto spesso dire che la crisi è passata, siamo fuori dalla crisi, ma chi vive quotidianamente a contatto con la realtà si accorge che questo purtroppo non è vero, soprattutto qui in Friuli. C'è ancora una grossa carenza di lavoro, ci sono tanti giovani che cercano lavoro, non solo giovani, ma anche persone che magari arrivate a fine carriera, sono state licenziate e non riescono ad essere reinserite per riuscire a raggiungere l'agognata pensione. E questo credo sia il problema più importante e più scottante che attualmente la politica regionale, ma non solo, soprattutto quella nazionale, dovrebbe cercare in qualche modo di rispondere. Dicevamo, abbiamo anche le nuove leve. Come ti chiami innanzitutto? Stefano. Anche tu qui a dare una mano alla festa? Sì. Cosa ti aspetti da questa festa e come la stai vivendo? Bene. Bene. Ti soddisfa tutto, insomma, la cucina è buona, le attività anche per i ragazzi, sentivamo prima dagli organizzatori, ce n'è un paio per queste giornate, insomma? Sì. Sintetico, è sintetico, ha preso il dono della sintesi. Ringraziamo dunque Anna Maria Menosso e noi proseguiamo il nostro viaggio in questa festa dell'unità di Prada Mano. Uno degli aspetti fondamentali di una buona festa dell'unità è anche la cucina. Siamo con Fedora Cozzi che è la responsabile di questa struttura. Cosa state preparando per i tanti sostenitori militanti, ma anche cittadini che verranno a trovarvi? Intanto qua noi facciamo una cucina casalinga, non facciamo cose alla griglia, facciamo i primi come gnocchi, ragù, pasticcio, sempre fatto da noi e tutte le verdure fatte da noi, abbiamo la porchetta con le patate fatte al forno, abbiamo il frico e poi c'è il pesce che è gestito dalla serenissima Prada Mano che è in aiuto con noi. Quindi un'offerta molto variegata, ricordiamolo, fino al 16 agosto qui a Prada Mano si può venire a discutere di politica ma anche a mangiare bene. A mangiare soprattutto bene perché è fatto da noi, siamo qui dalle 8 di mattina alle 10 di sera solo a lavorare per i clienti perché siano soddisfatti. Raccontiamo anche un paio di numeri, quanti siete che vi state dando il turno, il cambio tra le cucine in tutti questi giorni frenetici? Allora siamo quei 3-4 che lavoriamo dalle 8 di mattina all'una, poi andiamo a casa, una doccia, torniamo qua alle 3 e stiamo fino a 10-11 di sera. Poi sono quelli che purtroppo lavorano anche, allora arrivano verso le 5 e completano il lavoro. Con il vostro punto d'osservazione in questi 69 anni di festa dell'unità come avete visto cambiare, modificare i gusti delle persone e anche le persone stesse che si presentano a questi eventi? Ma sinceramente le persone appunto predeligono la cucina nostra e noi non andiamo a cercare altre diciamo, anche domani sera abbiamo la cena dei pensionati, è sempre una cucina che non è sofisticata, è sempre una cucina semplice, genuina, è tutta fatta da noi e anche domani saremo qui dalle 7 in poi. Abbiamo cercato di raccontare dunque le predibattezze che si cucinano qui a Pradamano, grazie a Fedora Cozzi e buon lavoro. Grazie, grazie. Si fa dibattito, si fa gastronomia ma si fa anche cultura qui alla festa dell'unità di Pradamano, siamo con Enza Di Giusto che è una delle responsabili del progetto 3x1, innanzitutto raccontiamolo, di cosa si tratta? Il progetto 3x1 nasce nel 92 quando portavamo gli aiuti nei campi profughi in ex Jugoslavia e usavamo praticamente quello che avevamo, cioè raccogliere fondi attraverso la vendita di libri e l'utile veniva utilizzato per acquistare il materiale che ci richiedevano nei campi profughi. Nel 95 al termine della guerra si decide di proseguire e prendiamo contatti con Emergency che era nata nel 94 e decidiamo di mettere in piedi un gruppo, anzi a Udine era già nato il gruppo, c'era già un referente che era Mario De Pieri che è attualmente Mario De Pieri e assieme a lui decidiamo di proseguire il nostro progetto, quindi raccogliere fondi e sostenere l'ospedale di Goderic in Sierra Leone. Qui ci sono anche dei banchetti per la vendita di libri, ci sono gli striscioni gialli per la verità, per chiedere verità per Giulio Reggeni e anche una vetrina per le varie associazioni del territorio. Sì, e non solo del territorio perché Emergency naturalmente è il gruppo di Udine che lavora, però Emergency è l'associazione che conoscete tutti, in più c'è Augusto per la vita che è un'associazione anche quella a livello nazionale che raccoglie fondi per progetti legati ai malattie del cancro, malattie del sangue e poi c'è Friuli Man di Nepal Namaste che è l'associazione di Malborghetto, il presidente Rossetto e poi assieme alla Bottega del Mondo e con i prodotti di Libera diamo un senso anche sociale a una festa dell'unità che oltre a essere dibattiti appunto è anche sociale. iscriviti al nostro canale